Tutto in chiave è fortemente euroscettica il nuovo libro del leader comunista Marco Rizza a partire dal titolo Il Golpe Europeo, presentato a Torino nella sala municipale di Via Miglio. C'erano anche l'onorevole Dario Ortolano dei comunisti sinistra popolare e il segretario torinese di CSP Enzo Pellegrini. Secondo Rizzo, quello che stiamo vivendo nell'Unione Europea, ho meditato attacco alle condizioni di vita dei cittadini e ai diritti dei lavoratori con l'impoverimento dei centi medi e l'attacco all'economia nazionale. Sentiamo lo stesso Rizzo. Un libro, Il Golpe Europeo, per raccontare la realtà d'oggi. Chiudono un ospedale, vi tagliano la pensione, non trovate lavoro. Le responsabilità sembrano tante ma in realtà sono riconducibili ad una sola, l'Unione Europea, le grandi banche, il grande capitale. Ed è per questo che almeno i cittadini devono conoscere chi è responsabile di questo disastro che condurrà l'Italia a diventare una colonia.